Offrire giovani disoccupati di lunga durata, le casalinga, le persone che lavorano, a chi vuole riconquistare un posto di rilievo nel mercato del lavoro, a chi vuole acquisire nuove competenze e conoscenze, la possibilità di imparare un mestiere immediatamente spendibile. Rispondono a questo preciso obiettivo i corsi dell'Officina dei Sapori Cescot di Sulmona che ripartono con l'avvio della stagione autunnale. E' ormai dimostrato che l'80% dei corsisti della Cescot trova lavoro in poco tempo, non solo sul territorio, dove molti nel settore gastronomico cercano di sfidare la crisi, ma anche all'estero. La ripresa delle attività dell'Officina dei Sapori è una buona notizia per tutto l'Abruzzo, in particolare dell'interno, che fa delle no gastronomie e del turismo gastronomico il punto strategico per lo sviluppo economico del territorio, rimarca Angelo Pellegrino, direttore dell'Officina dei Sapori Cescot. I corsi programmati per l'atunno sono corso per addetti alla macelleria, corso per pizzaioli, corso per panificatori, corso di pasticceria, corso barman, corso abilitante e sub, somministrazione e ventina di alimenti e bevante. La mission dell'associazione, che opera senza scopo di lucro, è quella di sperimentare anche la divulgazione di un sistema alimentare adeguato, soprattutto per l'età infantile, per la lotta all'obesità, introducendo da subito la riduzione del sale negli alimenti, nel rispetto delle tipicità e delle tradizioni locali. Grazie.